Musica Sembravano regolari studi odontoiatrici con tanto di targhi all'ingresso, reception e sale d'attesa. C'erano anche tutti i sofisticati macchinari necessari per svolgere la professione sanitaria. Quelli che mancavano, però, erano proprio i dentisti. Questo è il quadro che si è presentato ai militari della Guardia di Finanza di Caserta, che, al momento dell'accesso simultaneo presso due studi odontoiatrici, hanno sorpreso i due falsi dentisti intenti ad esercitare abusivamente la professione medica. Accortisi della presenza dei finanzieri, uno di loro, lasciando nello sconcerto il paziente che stava curando, si è disfatto della maschera settica e del camice bianco, dandosi alla fuga verso l'uscita secondaria dello studio, mentre l'altro veniva bloccato dai militari appostati nelle immediate vicinanze mentre era già in procinto di dileguarsi. Una volta sventata la fuga rocambolesca, i due soggetti, ammettevano, davanti agli occhi sbalorditi dei clienti, che in quel momento erano in attesa per essere visitati e che avevano assistito alla fuga dei loro dentisti di fiducia di esercitare l'attività senza averne alcun titolo.